Chi sarà il migliore intappato maschio e chi sarà il migliore intappato femmina? Contini non c'entra! Contini è fuori dai giochi! Contini, lei non può più fare parte della giuria, lo sa. Dalla prossima volta dovrà completamente mascherarsi da uomo, che ne so, invisibile, uomo ragno. Allora, come? Perfetto! Allora, uno alla volta, presentiamo nome e cognome, dopodiché il vostro applauso dovrà giudicare la migliore femmina, migliore donna e migliore uomo. Allora, nome e cognome? Raffaella Scagliarini, peace and love! Peace and love! No, 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 al mio tre, no, no, aspettate, vieni qua davanti, qua davanti. Allora, uno, due, tre! Basta così! Nome e cognome? Simona Salsi Allora Eh, vai, 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 vai! Uno, due, tre! Prego si accomodi! Giuria avete presa nota, vero? Ok Si accomodi, prego! Nome e cognome? Fausto Draghi Peace and love 1, 2, 3 Basta così Comodi Prandini Walter Un attimo Un attimo So che non lo avete riconosciuto Gli facciamo ripetere il nome e il cognome Prandini Walter Allora al mio 3 1, 2, 3 Mi consulto con la giuria Se dice il Prando mi toglie l'ebraico Allora Faccio un passo avanti come migliore Donna Del primo raduno Funky Land Siete convinti eh? Questa roba qua su Youtube Non so se ci sta tutto Ma Dio buono Sgagnarini Questo lei lo mette sul comodino Ci accende la lampadina tutte le mattine Perché porta solo bene Non posso mettere quello che voglio Tira le parti Come tira le parti? Oltre È un funky party È un funky Tira le parti Dunque Adesso mi vado di nuovo a consultare con la giuria Dicono che alla clac ma non si crede nessuno Ha vinto come miglior uomo funky Brandini Anche per lei sul comodino Con la lampadina accesa tutte le mattine Perché porta bene Soprattutto perché tira su Lo metto la sera Perfetto Io direi che Per questa volta Le nostre buffonate Ne abbiamo fatte a sufficienza Voi siete tranquilli Adesso potete continuare Per un'altra due o tre ore Tuttanto presto Il parco non dice niente Il sindaco non dice niente I vigili non ci sono Che problema c'è? Noi andiamo di lungo? Dico bene andiamo di lungo? Ok Fino quando? Fino domattina? Sì Ok